Proprio Pangallo che ha scottanti rivelazioni su Gioppino Trappattoni Ma dai! C'ho una voglia di vederti Orcoboia, st'accidente di Coppa UEFA di mezzo La semifinale come è andata? Avete vinto? Mi pare di sì Come? Avete vinto o no? Boh, mi ricordo, senti Kim, io c'ho voglia di vederti Devo vederti, ho bisogno di vederti Se no impazzisco, Kim Che me ne frega, ti sto qui a pensare alla Coppa UEFA Senti, la mia moglie è andata via per due giorni, io vengo da te Oh, e che gli dico? Che tu gli vuoi dire al mio marito? Degli io un imbecille, ne facesse mai una giusta Pronto? Gli ho detto tre volte, venivo a stare da te per due giorni Giovanni, ma c'è la finale Che finale? Ma come è finale? Ma cosa vuoi che me ne frega a me? Basta, io non ti rivolgo più la parola, eh? Sottoscritto, ora vado a Kim Basinger E la finale, quando si fa? Porta un accidente a me della finale di tutta la Juventus Oh, e si farà fra nove settimane e mezzo Oh, ma come le fai!